Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Valentina e Corrado sono stati i protagonisti della terza storia di C'è posta per te, andata in onda nella prima serata di ieri, e la storia di un matrimonio interrotto a causa di un tradimento virtuale da parte della donna, che chiama la trasmissione per tentare un ricongiungimento con il marito e padre dei suoi due figli. Negli ultimi due mesi la donna ha svelato che si sono visti, hanno discusso e si sono confrontati ma poi sono sempre finiti col fare l'amore. Lui spiega di esserci rimasto molto male dopo aver scoperto tutto, nega di averla oppressa e nega persino di aver avuto di recente dei rapporti, sostenendo che ciò sarebbe accaduto solo poche volte. Alla fine però l'uomo decide di voler chiudere definitivamente la busta. Per adesso va bene così. Valentina però ha chiusato. Non esiste per adesso. Se si chiude si chiude e basta. Tutti si sono chiesti come sia andata dopo la puntata. Molti utenti hanno fatto notare un indizio social che spiega chiaramente cosa è accaduto. Secondo diversi fonti social direttamente da noto, i due non hanno più avuto rapporti. Anche sui canali social di Ciapposta per te non sono stati pubblicati aggiornamenti e questo conferma che i due sono rimasti separati. Corrado ha scelto lo stato sentimentale di separato per i social. In molti hanno apprezzato il comportamento della donna che, pur avendoci provato ancora una volta, ha poi deciso di mantenere la sua linea, lasciando perdere l'ormai ex marito.